Musica Amici di Atisport24 bentornati in nuova puntata di 2 metri la pallannuoto vista da vicino Siamo ormai prossimi alla partenza dei playoff promozione per il campionato di Serie B Noi oggi apriamo le nostre porte per andare in casa della Giorgini Ottica Muriantichi Prima classificata del Girone 4 E per farle un gran piacere accogliere nel nostro salotto virtuale il team manager del set allenato da Aurelio Scebba Enrico Sciacca, Enrico benvenuto, grazie di aver accettato il nostro invito Grazie a voi, intanto buona serata a tutti, anche a te grazie Andrea E un saluto a tutti gli amici di 2 metri Enrico io ti faccio iniziare la nostra analisi facendo un'escursione Andiamo un po' a ripercorrere quello che è stato il cammino, non credo di esagerare Se dico anche al di sopra delle aspettative, di una Giorgini Ottica Muriantichi Che dopo un inizio in cui sembrava stentare un po' è diventata praticamente un rullo compressore Ed è andata poi dritta quasi fino alla fine, un piccolo passo falso Però è andato in porto il primo posto, che bilancio tracciamo della stagione regolare? La stagione regolare è stato il capitale che ha concluso, che ci ha visto appunto al primo posto E' stato per noi molto soddisfacente, anche perché non era previsto diciamo al primo posto Strada facendo la squadra è cresciuta partita di partita E come sapete per noi l'obiettivo iniziale era entrare quantomeno nei playoff Raggiunto diciamo ampiamente prima del previsto E poi abbiamo mantenuto la prima posizione Che ci permetterà di fare questi playoff Disputando l'eventuale bella terza partita in casa E questo potrebbe essere anche un vantaggio a favore nostro Diciamo che quindi il gruppo ha fatto un campionato al di sopra di quello che era previsto E per noi siamo molto molto soddisfatti e siamo contenti Assolutamente grande soddisfazione Però come ha detto anche il vostro presidente Spignicchia Si gioca per vincere e non si gioca per far presenza Ti chiedo Mr. Sheba ha sicuramente approfittato della pausa Prima della post season per mettere la squadra al lavoro Che percorso ha seguito il gruppo in questi giorni senza partiti ufficiali? Ma in questi giorni il gruppo si è allenato ovviamente regolarmente tutti i giorni Si è allenato sia nella parte diciamo latatoria Ma anche e soprattutto ha seguito quelle che sono le indicazioni del nostro mister Con preparazione di schemi, partite amiche e evoli con qualche squadra locale E tutto sommato siamo molto soddisfatti del lavoro dei ragazzi Perché stanno seguendo quello che sono le direttive e le indicazioni del nostro mister a pari di Sheba Quindi diciamo che il lavoro che stanno portando avanti E soprattutto essere concentrati su questa ultima parte del finale dei playoff Ed essere soprattutto concentrati proprio nell'approccio della gara Assolutamente particolare e importantissimo Perché sembra banale ciò che sto per dire Ma quando si arriva ai playoff ogni squadra che arriva È sicuramente preparata dal punto di vista fisico Cura ogni particolare dal punto di vista tattico Ma probabilmente come giustamente analizzavi tu La differenza la fa la capacità di tenere la testa sulla sfida E la capacità di gestire le energie mentali nel migliore dei modi Percorso eccellente Percorso che vi ha portato al primo posto Al di là delle più rose aspettative Però adesso si alza l'asticella Perché non sono più partite di stagione regolare Per cui i paracadute Qualche piccolo paracadute c'è ancora Ma io tendo a dire che qui non si scherza più E al dovendo alzare l'asticella C'è bisogno ovviamente di spostare anche in su il livello delle prestazioni Qual è il step di crescita? Qual è il salto di qualità serve a questo gruppo Per vivere al meglio l'avventura dei playoff? Ma il salto di qualità è stato fatto durante l'anno Perché ricordiamo che noi siamo partiti Con una rosa mista, giovane Con qualche elemento di esperienza E i nostri giovani sono cresciuti E sono diventati importanti E ora hanno assunto un ruolo molto fondamentale Nella crescita della squadra Ora tutto nelle ultime partite Speriamo di mantenere un'alta la concentrazione E dobbiamo sicuramente dare il nostro massimo impegno Per cercare di arrivare quanto più in là possibile E sperare di concretizzare questo sogno Questo salto di categoria Assolutamente il percorso verso il sogno da concretizzare Parte con una grande sfida Che se non sbaglio è stata un play out di qualche stagione addietro Giorgini Ottica Muri Antichi Contro Pescara Pallannuoto Società storica E quarta classificata del girone 3 Allenata da un tecnico top come Paolo Malara Formazione fatta da tanti giovani Ma che sicuramente arriverà in Sicilia Per vendere cara la pelle Fatta tutta questa premessa Che partita ci aspettiamo? Ma sarà una partita sicuramente combattuta Perché il Pescara è una squadra che è stata costruita Anche loro per un obiettivo importante Che è la promozione È una squadra fatta da giovani Qualche elemento esperienza E verranno sicuramente qua da noi a Catania A vendere cara la pelle E difenderanno il risultato sicuramente anche in casa È una partita che sarà vissuta Secondo me punto a punto La speranza da parte nostra È di non avere appunto questi cali di concentrazione E soprattutto rimanere calmi E cercare di portare dal nostro lato La vittoria ovviamente Assolutamente Il confronto sarà serrato Sarà punto a punto Ma è uno step indispensabile da superare Io voglio chiudere E qui sono ammessi tutti i riti scaramantici Del caso Chiedendoti cosa vorrebbe dire Per la Giorgini Ottica Muri Antichi Il ritorno in Serie A2 Il ritorno in Serie A2 Facciamo appunto tutti i gesti scaramantici Di questo del caso Ma per noi è Ritornare nella categoria Che riteniamo di appartenenza Perché tantissimi anni abbiamo militato In Serie A2 E che secondo noi Dovremmo prima o poi ritornare E sperando che sia questa la volta buona Va bene Siamo così al termine di questa chiacchierata Ringrazio Enrico Sciacca per essere intervenuto Do appuntamento ai nostri spettatori Per la prossima puntata C'è Enrico Grazie mille Grazie Una buona serata a tutti Se mi permette solo una cosa Vorrei fare un applauso All'Anuto Catania Che si è salvata Un squadra concittadina Che ha vinto il play-out contro la Roma Qualche giorno fa E ringrazio tutti quanti Grazie Una buona serata Grazie Grazie Grazie